Hanno reso interrogatorio tutti e tre, hanno confessato la loro partecipazione all'evento precisando in maniera circostanziata in quale misura hanno partecipato. Ah, quindi i ruoli di ciascuno. Hanno fatto il nome del quarto uomo fermato giovedì? No, il nome del quarto uomo. Per il taglio dell'orecchio l'hanno addebitato ad altri, cioè almeno quello se si. Facciamo parte della banda ma non abbiamo tagliato noi l'orecchio alla signora Niva Bazan. Hanno ammesso tutti e tre le responsabilità della rapina in villa ai coniugi Martelli, i fratelli Costantin e Ion Turlica di 22 e 20 anni e il loro cugino Aurel Ruset di 25 anni, ascoltati questa mattina nel carcere di Lanciano nel corso dell'interrogatorio di garanzia a seguito dell'arresto effettuato mercoledì prima che i tre si dessero alla fuga da Lanciano. L'indagine sulla rapina stile arancia meccanica commessa all'alba di domenica scorsa prosegue per provare la responsabilità nella cruenta rapina anche del quarto uomo, Alexandru Bogdan Colteanu, 26 anni, individuato grazie al SARI, il sistema di riconoscimento dei volti, è arrestato due giorni fa a Caserta mentre cercava di vendere un orologio rubato proprio nella villa dei Martelli. Colteanu è ritenuto il capo della banda che, questa l'ipotesi investigativa, sarebbe responsabile anche di altri colpi commessi sul territorio frentano e danni di bar, tabacchi e distributori. Per loro le accuse formulate dalla procura di Lanciano sono rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di armi.